Inizio questa puntata di Ducinaltum con in mano il testo nuovo che Papa Francesco ha voluto come prefazio da mettere durante la celebrazione della Messa nel giorno della festa di Santa Maria Maddalena anzi proprio da quest'anno la ricorrenza del 22 luglio non è più semplicemente il giorno del Santo come si fa abitualmente ricorrendo ogni anno un giorno la festa di un santo ma col titolo di festa e il titolo di festa nell'ambito della liturgia ha delle sue prerogative tipo ecco quella che il Papa stesso ha voluto e che ha tradotto con il prefazio proprio per la festa di Santa Maria Maddalena prefazio è la preghiera che introduce al Santo 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 il Signore e poi dalla preghiera del Santo c'è la consacrazione bene è importante leggere il testo che il Papa ha personalmente redatto proprio da inserire nella festa di Santa Maria Maddalena e dopo aver fatto l'introduzione normale il Signore sia con voi e così via dice il testo nel giardino Gesù si manifestò apertamente a Maria di Magdala che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena e lo vide morire sulla croce dopo averlo cercato nel sepolcro per prima lo adorò risorto dai morti questo è lo specifico della liturgia che richiama la commemorazione di Santa Maria Maddalena come festa a lei dice il testo Gesù diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra allora il prefazio colloca la figura di Santa Maria Maddalena non per quello che è accaduto durante la vita pubblica di Gesù e abbiamo diversi episodi in cui si narra e si parla ma neppure per il fatto della crocifissione noi sappiamo dai Vangeli che ai piedi della croce oltre a Maria e a Giovanni c'era Maria Maddalena ecco questa è una una delle tante iconografie ecco in cui si ricorda il sacrificio di Gesù è la testimonianza delle tre figure vicine a lui la mamma Giovanni e Maddalena allora il ruolo di Maria Maddalena non è quello già ricordato nei Vangeli per il miracolo per la richiesta del perdono è la testimonianza dalla morte in poi ecco il punto il tono specifico della vita e della liturgia di Madonna della Maria Maddalena il paginone del osservatore la intitola Donna del desiderio ecco molto bello e spiega proprio con queste parole Maria di Magdala è una delle figure femminili più intriganti per chi legge la scrittura presenti in tutti i Vangeli mentre insieme alle altre discepoli di Gesù donne di Galilea è da Giovanni particolarmente evidenziata come donna vicina al Signore e come prima testimone della sua risurrezione non dobbiamo avere paura della termine di innamoramento certamente Maria Maddalena era innamorata di Gesù e possiamo dire nella giusta luce che Gesù amava Maddalena il Signore significativamente ecco nei Vangeli presenta questa donna come ecco l'inizio di un modo nuovo e definitivo di cogliere il messaggio della risurrezione nel quarto Vangelo appare Maria Maddalena presso la croce insieme alla madre di Gesù alla sorella della madre Maria di Cleofa e al discipolo definito che Gesù amava nell'ora di Gesù cioè nell'ora dell'innalzamento del figlio dell'uomo e della sua glorificazione sotto la croce sono presenti gli amici di Gesù quelli legati a lui da amore e ora chiamati a diventare la comunità di Gesù nella scandalosa assenza di tutti i suoi discepoli eccetto Giovanni questo è lo specifico di Maria Maddalena presente là dove sono assenti tutti eccetto uno eccetto l'apostolo Giovanni ora Maria di Magdala è là sotto la croce nell'ora estrema della vita di Gesù mentre tutti gli altri sono fuggiti abbandonandolo proprio lei e il discepolo amato sono gli unici testimoni della morte di Gesù e della sua risurrezione alla croce non dice non fa nulla ma il terzo giorno dopo la morte cioè nel primo giorno della settimana ebraica di buon mattino mentre ancora a buio Maria di Magdala Maria Maddalena viene al sepolcro secondo secondo il quarto evangelista la sua è un'iniziativa personale ma di fatto in quel suo andare alla tomba quale figura tipica ed esemplare rappresenta anche le altre donne che secondo i Vangeli sinottici vi erano andate con lei ecco perché Maria parla al plurale quando dice non sappiamo dove l'hanno posto quando lei va dagli apostoli e dice hanno portato via Gesù perché Maria passato il sabato appena possibile va alla tomba il quarto Vangelo non ci fornisce il motivo non va per ungere il cadavere di Gesù né per osservare la tomba ma in modo totalmente gratuito possiamo solo dire che in lei c'è ecco donna del desiderio c'è il desiderio di rimanere vicino al corpo morto di Gesù colui che Maria ha amato ora è morto ora il suo corpo è là nella tomba e Maria vuole stargli semplicemente vicino quanto vi sto dicendo è parte dell'articolo che Enzo Bianchi ha scritto nell'osservatore romano allora giunta alla tomba vede la pietra rimossa e allora Maria Maddalena fa una corsa e va da Pietro e dal discepolo amato e dice hanno portato via il Signore dal sepolcro non sappiamo dove l'hanno posto a lui dire ciò i due Pietro e Giovanni corrono subito al sepolcro e in quella corsa c'è una vera e propria concorrenza cioè il discepolo amato è più veloce e giunge per primo arriva poi anche Pietro che entra vede le bende che giacciono la terra il sudario volte in modo ordinato Pietro è la poria mentre il discepolo amato entrato per pure lui nel sepolcro vide e credette ecco mi sono soffermato su questa descrizione perché questo è l'aspetto che rende tipica la figura di una persona che oggi noi definiamo Santa Maria Maddalena lasciamo perdere la letteratura Don Brown eccetera ecco lasciamo perdere le tradizioni anche dei discepoli dei Vangeli apocrifi prendiamo il dato del Vangelo e nel dato del Vangelo cosa abbiamo abbiamo che Maria di Magdala ecco lei che annuncia agli apostoli ecco che diventa così la donna apostola degli apostoli questa è una magnifica rappresentazione del nolimetangere cioè non mi toccare ancora però è già un immergere Maddalena nella dinamica della risurrezione Gesù non è più nel sepolcro gli angeli testimoniano ecco la sua assenza dal sepolcro e la Maddalena è colei che entra in contatto orale finché c'è la parola Maria da parte di Gesù e la risposta di Maria che dice Rabbuni cioè maestro questo è l'aspetto tipico della Maddalena che diventa in questo modo apostola degli apostoli cioè colei che va a dare l'annuncio colei che porta la notizia dell'avvenimento della risurrezione definitivamente compiuto non c'è più nulla da attendere ora ora c'è solo da realizzare il processo della continuità o è vero che noi nella celebrazione della messa diciamo proclamiamo la tua morte signore annunziamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta e siamo nell'attesa del ritorno del Cristo signore della storia e del giudizio universale ma nella storia dei vangeli la tipicità della donna Maria Maddalena è quella di essere inserita là dove finisce la storia dell'attesa della redenzione per dare avvio alla realizzazione della redenzione Maddalena è il passaggio dall'attesa alla esecuzione per cui il suo ruolo apostola degli apostoli la evidenzia realmente come una figura eccezionale sulla quale non è proibito fare come succede anche in molti libri io ne ho diversi in cui si tratta anche della Maddalena della Madonna in cui gli studiosi hanno il piacere di indagare ecco questo testo dell'Elisabetta Johnson una vera grande teologa di oggi dove parla sempre della Madonna ha diversi capitoli anche in cui accenna al modo col quale la Maddalena ecco fa sua la missione nuova che nasce dal Cristo risorto ecco il modo col quale si inserisce nella storia della Chiesa la figura di Maddalena eccola qui è quella di aver parlato col risorto è quello di essersi presentata su richiesta sua e sulla questa sua richiesta Gesù che risponde quindi il ruolo unico e bellissimo della Maddalena è quello di dare avvio alla testimonianza della Chiesa del risorto non c'è più da attendere c'è solo da testimoniare ecco adesso vedete qui nella prossima figura numero 7 che il caravaggio presenta l'estasi ecco della Maddalena certo che gli artisti si sono lasciati affascinare da questo personaggio non solo sotto l'aspetto letterario ma anche proprio sotto l'aspetto artistico e qui il caravaggio presenta l'amore di Maddalena ed è veramente un amore fisico l'amore che poi viene richiamato anche dai cantici nella messa che viene celebrata allora nella fattività dell'amore vero si dà la continuità alla vita del risorto e la chiesa oggi che cos'è se non l'assemblea dei testimoni del Cristo risorto allora vedete che la figura come dice il Papa eccezionale di Maria Maddalena bene si incastona in questo compito di ciascuno di noi di essere testimoni credibili del risorto certo che la risurrezione nasce in base alla crocifissione qui vedete nel numero la foto numero 10 che adesso il regista ci mette inonda ecco è sempre raffigurato è logico l'amore verso il Cristo che è lì ancora in croce vedete i piedi e l'arte si è prodigata in mille modi per rendere questo ruolo questo ruolo che in Maria Maddalena ha una tensione affettiva enorme attenzione dico affettiva perché quello è vero amore l'amore fra Gesù e Maria Maddalena fra Maria Maddalena e Gesù è un vero amore amore carnale amore familiare amore di predilezione ed è per questo che il Papa ha voluto che la figura e la festa di Maria Maddalena assumesse anche nella liturgia un tono nuovo una modalità festiva che sia degna della donna quella donna ripeto sulla quale molto si scrive anche oggi e nella quale dobbiamo sapere cogliere una nuova maniera di trattare sia Maria mamma di Gesù sia le donne che all'inizio hanno collaborato perché la assemblea degli apostoli quindi la chiesa avesse il suo inizio la modalità con la quale la chiesa inizia con la pentecoste tolto l'atto in sé globale no con la con le fiamme i linguaggi ecco però poi cosa fa si concretizza nella vita delle persone e allora è così che Maddalena viene presentata come colei che porta l'annuncio agli apostoli perché gli apostoli devono dare continuità la ricerca amorosa fedele perseverante che fatica ad accettare la realtà della fine di un rapporto perché in lei Gesù significava tutto l'innamoramento bellissimo di Maria Maddalena con Gesù e la risposta affettiva di Gesù su Maddalena è meravigliosa proprio perché dà alla donna la dignità della collaborazione diretta del progetto della redenzione ed ha a Maria Maddalena la complementarietà dell'aspetto fisico virile del Gesù Redentore mamma di Gesù è Madonna la Madonna lo sappiamo ma la figura di Maddalena nel suo aspetto affettivo nella sua ricerca attenzione e anche nel suo passaggio dall'essere una peccatrice a diventare apostola ci dice qual è il compito e la modalità vera di vivere il cristianesimo non paura del peccato che va detestato ma con l'apertura ad un modo nuovo ad una vita ad una modalità che secolo per secolo porterà fino all'incontro col Cristo Redentore è bella questa celebrazione liturgica della Santa Maria Maddalena con la novità del prefazio che il Papa ha voluto nel quale ha evidenziato che il ruolo di Maddalena nasce appunto nella risurrezione di Gesù e il suo manifestarsi di Gesù a Maddalena chiamandola per nome è l'ambito della assoluta nobiltà e modalità di perpetuare nel tempo la storia delle donne nella chiesa questo è un tema che Papa Francesco molto spesso ha evidenziato non solo negli ultimi nell'ultimo sinodo sulla famiglia ma proprio nel ruolo da dare alla donna nella vita della comunità cristiana qui abbiamo molto da imparare abbiamo molto da recuperare per far sì che tutto ciò che accade e avviene nella storia della chiesa sia consono all'impegno che la chiesa deve avere e deve portare avanti quindi ringraziamo il Papa della valorizzazione nuova che ha voluto dare alla festa di Santa Maria Maddalena e facciamo nostro l'impegno suo lei che è la discepola che diventa apostola sia anche per noi uno stimolo ad essere dal battesimo in poi con la nostra vocazione ecclesiale apostoli verso coloro che ci avvicinano e sentono nel nostro esempio è la nostra parola l'indicazione giusta della vocazione cristiana grazie vi saluto e vi auguro buona continuità in questa estate così travagliata grazie a tutti